Il Gambettola fa lo sgambetto in casa dell'Igea firmando una vittoria che è meritata in virtù delle occasioni create nei primi 60 minuti di gioco. L'Igea si sveglia solo nel finale centrando anche un legno. Punizione di Leoni proprio all'inizio partita, Poli chiude di test in angolo con una deviazione providenziale. Il Gambettola si fa vedere nuovamente dalle parti di Rossi con una straffilata dalla distanza di Angeli che termina alta. Ancora Angeli scatenato sulla sinistra, ruba questa volta il tempo e palla a comandini, si beva abbondanza e Poli per mettere al centro, ma Alfieri spreca tutto. Dal corner, velo di Toscano per Angeli che domestica il pallone al centro aria ma non inquadra. Il bersaglio, squadra a riposo sullo 0-0. Ad inizio ripresa timido tentativo dell'Igea con un tiro di bella vista centrale bloccato da Morelli. Poi la volta di Pirini che serve carestia, l'attaccante si gira, mira la porta con la sfera che si spegne a lato. Dal corner, Angeli nuovamente è il protagonista in area di rigore ma non trova lo specchio della porta. Sembra una maledizione ma così non sarà, ma prima carestia impegna Morelli. Dall'altra parte, ruba il tempo a Pirini e si presenta tu per tu con Rossi, Magnani, freddandolo con i gol che vale la vittoria in esterna del Gambettola. Si aprono a questo punto gli spazi e la percussione di Berardi non viene premiata dal suo piede. L'Igea si sveglia tardivamente, dal corner arriva un pallone a Righini che prova a piazzare la sfera ma Morelli neutralizza respingendo i corner. La pressione locale prosegue con questa gran conclusione di Facondini che centra la traversa. Da una punizione di Righetti, Morelli è costretto a miracolo rifugiandosi in calcio d'angolo. L'ultima occasione del match arriva dalla bandierina con il tiro a botta sicura di Facondini ma questa volta la conclusione fuori misura 0-1 e 3 punti che fanno felice il Gambettola.